Ok, allora, direi che i carnivori hanno ricevuto abbastanza video. Oggi voglio parlare dell'Edmontosaurus, uno dei dinosauri erbivori più grandi e meglio conosciuti al mondo, viste nel Nord America alla fine del Cretaceo, e condivideva abitati insieme al T-Rex e il Triceratopo. Ma prima di andare avanti, ragazzi, vi ricordo di lasciare il like se vi condividete per aiutare il canale a crescere. Questi video vanno sempre bene e vi devo ringraziare. Fatemi sapere quale dinosauro vorreste qua sotto nei commenti, vi ricordo che quello che riceve più like sarà il prossimo a ricevere lo spotlight del video. E detto questo, partiamo! La prima specie ufficiale di Edmontosaurus fu nominata e descritta nel 1892 sotto il nome di Clausaurus anectens, da Othniel Marsh. Si basa sull'individuo USNM2414, composto dal tetto cranico e uno scheletro parziale. E ci si è poi aggiunto l'esemplare YPM2182, composto da un secondo cranio e un secondo scheletro parziale, designato a paratipo. Entrambi i fossili sono stati scoperti nel 1891 da John Bell Hatcher, in una formazione rocciosa risaliente alla fine del Maastrichtiano, ovvero la formazione Lance della contea di Neobrara, nel Wyoming. L'animale è diventato in breve tempo un dinosauro piuttosto famoso, fu uno dei primi dinosauri a ricevere un restauro scheletrico, oltre ad essere il primo adrosauride il cui scheletro è stato ricostruito. A causa della poca conoscenza delle caratteristiche diagnostiche della famiglia degli adrosauridi, la classificazione dell'animale fu molto complicata, soprattutto dopo l'effettiva morte di Marsh nel 1897. La specie Klausaurus a Nectens fu in seguito classificata come una specie di Klausaurus, Tespesius e Trachodon. Le opinioni dell'epoca variano notevolmente da autore a autore. I libri di testo e le enciclopedie difficilmente riuscivano a trovare una distinzione tra i dinosauri simili all'Iguanodon, e i dinosauri dal becco d'Anatra, basati sui resti ora conosciuti come esemplari adulti di Edmontosaurus a Nectens. Mentre Hatcher identificava esplicitamente C. Annectens come un sinonimo di adrosauridae. La revisione di Hatcher, pubblicata nel 1902, divenne in breve molto popolare. Egli considerava quasi tutti i generi di adrosauridae come sinonimi di Trachodon. Durante questo lasso di tempo, ovvero dal 1902 al 1915, due ulteriori importanti esemplari di C. Annectens vennero riportati alla luce. Il primo, denominato la Mummia di Trachodon, fu scoperta nel 1908 da Charles Sternberg e di suoi figli, nelle rocce della formazione Lens, vicino Lask, Wyoming. Sternberg lavorava per il Museo di Storia Naturale di Londra, ma Harry Osborne, dell'American Museum of Natural History, fu in grado di acquistare il campione per 2000 dollari. Gli Sternbergs recuperarono un secondo esemplare simile della stessa area nel 1910, questa volta non conservato molto bene, ma dove furono ritrovate impressioni di pelle. Anche questo esemplare fu venduto al Nature Museum Stekenberg. Il nome Edmontosaurus fu coniato nel 1917 da Lawrence Lamb, per descrivere due scheletri parziali trovati nella formazione Horseshoe Canyon, che è la ex formazione Edmonton, lungo il Red Deer nel sud dell'Alberta, in Canada. Queste rocce sono più vecchie da quelle da cui sono stati estratti Clausaurus annectens. La formazione Edmonton prestava ad Edmontosaurus il suo nome. La specie tipo, Eregalis, si basa sull'esemplare NMC 2288, costituito da un teschio articolato a delle vertebre fino alla sesta vertebra della coda, le costole anche parziali, l'osso del braccio e la maggior parte di un arto posteriore. In seguito furono scoperti altri due esemplari e vennero identificati come Edmontosaurus, ma inizialmente classificati come Tespecius, nel 1920. Gilmore nominò il primo esemplare come Tespius Edmontoni nel 1924. T. Edmontoni veniva dalla formazione Horseshoe Canyon e si basa sull'esemplare NMC 8399, ovvero un altro scheletro quasi completo che manca della maggior parte della coda. Questo esemplare fu scoperto sul fiume Deer Red nel 1912 da un gruppo di Sternberg. Nel 1942 Lulevrite tentarono di risolvere la tassonomia complessa degli adrosauri di senza cresta, nominando un nuovo genere, Anatosaurus, in cui vennero classificati diversi esemplari. Anatosaurus, il cui nome significa lucertola anatra, a causa della sua ampia bocca con il becco simile a quello di un anatra, venne affidata come specie tipo di Klausaurus anectens. A questo genere vennero assegnati anche i generi di tutti gli altri adrosauri di mai scoperti. Questo sistema tassonomico perdurò per diversi decenni, fino a quando Michael Brett Sermann riesaminò il materiale pertinente per i suoi studi universitari negli anni 70 e 80, concludendo che la specie tipo di Anatosaurus, ovvero A. anectens, era in realtà una specie di Edmontosaurus e che Anatosaurus copei era abbastanza diverso da giustificare un proprio genere. Brad Sermann e Ralph Chapman designarono un nuovo genere per A. copei, ovvero l'anatotitan, nel 1990. Tra le specie rimanenti, ovvero A. saskatwetchvanensis, una roba del genere, e A. edmontoni furono assegnate ad Edmontosaurus, e A. longiceps venne riclassificato come Anatotitan longiceps, sia come una specie o come sinonimo di A. copei. Poiché la specie tipo di Anatosaurus, A. anectens, fu sopraffatta da Edmontosaurus, il nome Anatosaurus venne abbandonato, ed ora in avanti usato solo come sinonimo junior di Edmontosaurus. Ragazzi, la storia è veramente complicata, però per fortuna in uno studio del 2011, condotto da Nicolas Campione e David Evans, condurrono le prime analisi morfometriche per confrontare i vari esemplari assegnati a Edmontosaurus. Essi hanno concluso che solo due specie sono da considerarsi valide, ovvero Edmontosaurus regalis, dal tardo campaniano, ed Edmontosaurus anectens, dal tardo mastrichtiano. Quindi A. copei, A. saskatwetchvanensis, Anato titan longiceps, non sono più valide. Il loro studio, inoltre, ha fornito un'ulteriore evidenza che Anato titan copei è un sinonimo di Edmontosaurus anectens, in particolare che il lungo e basso cranio di A. copei è il risultato di un cambiamento ontogenico e rappresenta un esemplare adulto di Edmontosaurus anectens. Quindi ne esistono solo due ragazzi. Il nome Anato titan è ancora utilizzato da alcune persone, l'ho utilizzato anch'io, ma comunque è l'importante che capite che adesso di Edmontosaurus ne esistono due specie, ovvero anectens e regalis. Punto. Sempre nello stesso studio del 2011 vennero registrate e studiati molti crani degli Edmontosaurus noti, provenienti sia dal campaniano e sia dal mastrichtiano, per ricostruire nell'ontogenesi le variazioni individuali e le dimensioni del cranio. Il risultato del loro studio ha dimostrato che in entrambe le specie di Edmontosaurus molte caratteristiche precedentemente utilizzate per classificare le specie addizionali, o i generi, sono state direttamente correlati con le dimensioni del cranio. E infatti Campione e Evans hanno interpretato questi risultati affermando che la forma del cranio di questi animali cambiava fortemente durante la crescita. Ed è questo ciò che ha fatto reinterpretare numerosi errori di classificazione del passato. Praticamente ragazzi ve la spiego in modo semplice. Ogni volta che veniva trovato un nuovo scheletro di Edmontosaurus, aveva una conformazione del cranio diversa da quello prima e quindi si pensava che fossero semplicemente specie diverse ma correllate tra loro. Ma in realtà si è notato che le differenze non erano dovute al fatto che erano due specie diverse, ma all'età il cui l'animale è morto. Perché come ho detto ora, il cranio durante la crescita cambiava veramente tanto, diventando quasi irriconoscibile da uno stadio più giovane o più anziano. La specie del Campaniano, Tespeus Edmontoni, precedentemente considerata un sinonimo di E. Annectens per via delle piccole dimensioni e la forma del cranio, è stata riclassificata come un esemplare subadulto del contemporaneo Edmontosaurus regalis. Allo stesso modo, i tre generi di Edmontosaurini del Maastrichtiano, che precedentemente erano pensati a essere tre genere differenti, si sono rivelati essere solo i tre stadi di crescita della specie Edmontosaurus annectens. con E. Saskatchewanensis, che rappresentava gli esemplari giovani, e Annectens, gli esemplari adulti, e Anato-Titan-Copei, che rappresentava gli individui completamente maturi. Durante la crescita, il muso più corto e alto dei giovani diventava più lungo e basso durante la crescita. Per questo ci furono molti, molti errori durante la classificazione. Inoltre, il cervello dell'Edmontosaurus è stato descritto in diversi documenti ed estratti attraverso lo studio della cavità cranica, in cui il cervello alloggiava. Tramite questo studio, si sono potuti studiare le dimensioni e le funzioni principali del cervello di E. Annectens e di E. Regalis, così come esemplari non identificati per specie. Il cervello di questo animale non era molto grande a confronto con la loro massa corporea e con le loro dimensioni, il che indica che probabilmente non era molto intelligente. Comunque, come tutti gli adrosauridi, l'Edmontosaurus era un grande erbivoro terrestre. I suoi denti erano continuamente sostituiti e ordinati in lunghe batterie dentali che contenevano centinaia di denti, di cui solo una manciata relativa erano in uso in qualsiasi momento. L'animale usava il vasto becco per recidere il cibo, oppure per chiuderlo a tenaia intorno ai ramoscelli, per poi defogliarli completamente. Essendo le batterie dei denti poste nel retro della bocca, ciò implica che l'Edmontosaurus e animali simili possedessero delle guance simili a quelle degli odierni cavalli, la cui funzione era quella di mantenere il cibo in bocca mentre veniva masticato. Grazie alla sua postura sia quadrupede sia bipede che poteva assumere, la portata verticale del cibo, che poteva raggiungere l'animale, era addirittura superiore ai 4 metri. Prima degli anni 60 e 70, l'opinione popolare sull'alimentazione degli adrosauridi, tra cui ovviamente Edmontosaurus, era che questi fossero animali semi-acquatici e che di conseguenza si ciubassero di piante acquatiche. Un esempio fu l'interpretazione del 1970 di William Morris, che osservando il cranio di un Edmontosaurino mancante dei resti di cheratina sul becco, propose che l'animale avesse una dieta simile a quella delle moderne anatre, che filtrano dall'acqua piccoli invertebrati acquatici come molluschi e crossacei, grazie alla lunga faccia interna a V del becco superiore. Questa interpretazione fu in seguito respinta, in quanto i solchi e le creste del becco erano molto più simili a quelle del becco delle tartarughe, rispetto alle strutture flessibili viste negli uccelli filtratori. Tra la metà del 1980 e il primo decennio degli anni 2000, l'interpretazione prevalente dell'alimentazione degli adrosauridi si basò molto sul modello proposto nel 1984 da David Weishample. Egli propose che la struttura del cranio permetteva alla mandibola di compiere un movimento orizzontale e laterale, permettendo così la masticazione. I denti della mascella macinavano il cibo contro i denti della mascella inferiore, riducendo il materiale vegetale in poltiglia che veniva poi mantenuta all'interno delle guance. Un tale movimento ricorda la masticazione dei moderni mammiferi, pur realizzando gli effetti in modo completamente diverso. Tuttavia, nel 2008, uno studio di Holiday e Lawrence Whitmer ha messo in discussione il modello di Weishample. Secondo i due scienziati, infatti, la masticazione negli ornitopodi era impossibilitata dall'assenza di specifici giunti presenti dei mammiferi in grado di masticare, assenti irrettili e uccelli. Tuttavia, è stato dimostrato che tali giunti erano presenti sotto forma di cartilagine, e ad avvalorare l'idea di Weishample sono i graffi presenti sul becco e sui denti dell'animale, le cui direzioni fanno pensare ad un determinato tipo di masticazione. Vincent Williams ha pubblicato nel 2009 un lavoro supplementare sulla microusura dei denti degli adrosauridi. Gli studi hanno classificato ben quattro classi di graffi sui denti di Edmontosaurus. La classe più comune è stata interpretata come il risultato di un movimento obliquo, e non un semplice movimento su e giù o avanti e indietro. Coerentemente con il modello di Weishample. Questo movimento si pensa sia stato il movimento primario per la macinazione del cibo, e due classi di graffi sono stati interpretati come il risultato di movimento in avanti o indietro delle ganasce. L'altra classe era variabile e probabilmente è il risultato dell'apertura delle ganasce. La combinazione dei movimenti è molto più complessa di quella che potevamo pensare. In poche parole, questo animale, ragazzi, aveva un sistema di digestione e masticazione super evoluto. Entrambi i campioni mummia, raccolti dagli Sternbergs, potrebbero effettivamente contenere dei possibili contenuti intestinali. Charles Sternberg segnalò la presenza di contenuti intestinali carbonizzati presso l'esemplare esposto all'American Museum of Natural History, ma tale materiale non è ancora stato descritto. Al contrario, il contenuto intestinale dell'esemplare mummia presso il Seckenberg Museum è stato descritto, ma si è dimostrato di difficile interpretazione. Le piante ritrovate nella carcassa includevano aghi, delle conifere che abitavano in quelle zone, rametti e alberi latifoglie e numerosi piccoli semi o frutti. La loro descrizione nel 1922 è stata oggetto di dibattito nel giornale di lingua tedesca non ci provo nemmeno a dirlo. Leggetelo qua ragazzi. Krausel, che descrisse il materiale, interpretò il contenuto intestinale degli animali, mentre Abel non poteva escludere che le piante si fossero insediate nella carcassa dopo la morte dell'animale. Quindi ragazzi, sappiamo che mangiava erba, ma non sappiamo che cosa. Sappiamo qualcosa anche grazie ad altri adrosauridi, ma non siamo ancora sicuri. Comunque, come tutti gli altri adrosauridi, si pensa che l'Edmontosaurus fosse un bipede facoltativo, nel senso che durante la vita si spostava prevalentemente su quattro zampe, ma in caso di necessità potesse deambulare velocemente anche sulle due zampe posteriori. Probabilmente l'andatura quadrupede era un movimento lento usato dall'animale mentre si nutriva, mentre l'andatura bipede veniva usata durante la corsa magari per sfuggire a dei predatori. Una ricerca del 2007, condotta grazie a dei modelli al computer, suggerisce che l'Edmontosaurus, in posizione bipede, poteva raggiungere una velocità di ben 45 km orari. Probabilmente le andature più veloci erano la galoppata, con cui potevano raggiungere una velocità massima di 15,7 metri al secondo, che sarebbero 57 km orari, e la corsa bipede con una velocità massima di 14 metri al secondo, che sarebbero all'incirca 50 km orari. L'Edmontosaurus, o meglio la specie E.anectens, visse nello stesso periodo e negli stessi luoghi del Tyrannosaurus rex, è un esemplare adulto di E.anectens, in mostra al Denver Museum of Natural Science, mostra segni di morsi di un teropode sulla coda, dimostrando quindi una relazione di predatore e preda tra i due animali. Infatti c'è un segmento anche molto carino, fatto su Prehistoric Planet, in cui due tirannosauri adulti cacciano un Edmontusauro. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, ho parlato per veramente troppo tempo, se non avete capito qualcosa scrivetemelo qua sotto nei commenti. Vi ricordo di lasciare like, iscrivervi e condividere per aiutare il canale a crescere. E detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!